La Spagna andrà al voto in elezioni anticipate il prossimo 28 aprile. Ad annunciarlo, confermando le voci degli ultimi giorni, è stato lo stesso capo del governo spagnolo, il socialista Pedro Sanchez. Vi annuncio che nell'esercizio delle mie facoltà, in quanto presidente del governo spagnolo, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri, ho proposto lo scioglimento delle Camere e la convocazione di elezioni generali per il giorno 28 di aprile. Si tratterà del terzo voto in quattro anni a rimarcare la situazione di notevole instabilità politica che permane in Spagna. L'attuale governo a guida socialista è in carica da appena otto mesi e si era insediato grazie a una mozione di sfiducia costruttiva contro l'esecutivo di destra dell'ex premier Mariano Rajoy del Partito Popolar, travolto da una serie di scandali di corruzione. L'atto finale del governo di minoranza socialista è stato invece la bocciatura della legge di bilancio da parte dell'opposizione di destra ed estrema destra, Partito Popolare, Ciudadanos e Vox, ma anche degli indipendentisti catalani del PDE-CAT di Escherra Repubblicana di Catalunia. Questi ultimi tenevano di fatto in mano le sorti dell'esecutivo, dato che il voto contrario delle destre era scontato. Ma i partiti catalanisti non hanno perdonato a Sanchez di essersi rifiutato di accogliere nel dialogo che aveva intrapreso con loro il principio del diritto all'autodeterminazione della Catalogna. Questo avrebbe aperto alla possibilità di un nuovo referendum sull'indipendenza della comunità autonoma, dopo quello vietato da Madrid e finito con cariche della polizia e arresti il 1 ottobre 2017, per il quale siedono ora come imputati davanti al Tribunal Supremo 12 fra ex ministri della Generalità catalana e leader della società civile. Secondo gli ultimi sondaggi, i tre partiti di destra dovrebbero ottenere la maggioranza assoluta, sia pure per poco, nel nuovo Parlamento spagnolo che sarà eletto a fine aprile. Grazie a tutti.